Ci interessa un vostro parere sulla nuova cultura dell'outdoor. Siamo a Milano, a Salone del Mobile, al fuorisalone, in San Marco, e c'è questo allestimento DOT che in qualche modo fa dialogare dei codici, dei cataloghi con delle situazioni estemporane ma che sembrano esistere da tempo. Cioè a dire, è un'esposizione, un format che in qualche modo sembra che ci sia da tempo. Il tema del rapporto interno-esterno affrontato in maniera pregevole da Corradi è qualcosa di antico, risale all'antica Roma il rapporto con il patio, il giardino, quindi per noi poter confrontarci con temi così preziosi è occasione di stimolo progettuale. Quello che noto, collaborando con Corradi da un po' di tempo, è che dei codici che sono a catalogo, come dicevo, possono essere interpretati in tantissimi modi. Non solo progettualmente ma anche nelle funzioni. È stato bello in questa serie vedere come queste due lanterne magiche si siano animate. Allora la domanda per arrivare ai progettisti è quanto, per esempio, quando lavorate sugli esterni riuscite a prevedere quanto poi il cliente si appropria di un progetto che è arrivato fino a un certo punto e poi diventa altro? In realtà tutto parte dall'esigenza del cliente, quindi quel punto di partenza fa sì che grazie a prodotti del genere che sono custom riusciamo a risolvere queste problematiche. Tutto quello che poi il cliente ti richiede dal patio riservato ad un bar oppure a un semplice spazio per esterno dove poter sedersi, rilassarsi da, non so, ecco, il semplice stare all'esterno e fruirsi un panorama, eccetera. Insomma, e questo grazie a prodotti custom si riesce a fare non disdegnando il valore estetico poi che è fondamentale, oltre alla funzione. Siamo al Salone del Mobile, dicevamo, 2019, ci sono dei temi che viaggiano in questa edizione l'uomo al centro nei vari fuori salone, chiaramente la figura dell'uomo è da anni, da anni, da secoli è al centro del progetto architettonico, però questo uomo al centro, se posso farvi una domanda l'avete ravvisato in questa edizione, siete riusciti a vedere delle cose, immagino, anche oltre a questa installazione? Credo che le innovazioni maggiori sono proprio nel nuovo, nel modo di arredare proprio degli spazi esterni l'appropriarsi di questi spazi esterni e l'illuminazione, sono le innovazioni degli ultimi anni in assoluto e questo per noi è materia di progettazione spinta, possiamo divertirci. Sorrido perché al telefono in questi giorni con molti architetti, no, io non vado a vedere il mobile, basta mi interessano le luci e gli spazi esterni, quindi siamo qui proprio per questo. In target. Sì, esatto, ed è fondamentale, è un approccio simile perché grazie a questi temi, ecco, sono temi sfidanti quelli dell'outdoor e dell'illuminazione dell'outdoor, non è sicuramente qualcosa di semplice ed è qualcosa che può creare atmosfera, qualcosa che può creare ambient e può creare quindi quella sinergia tra interno ed esterno che è importante in un progetto, è importante per relazionarsi all'ambiente come in questo caso, in uno spazio in cui ci troviamo, ecco, come dicevi tu prima, sembra quasi che questo esisterà sempre, in realtà è uno spazio nato da nulla in poco tempo e che ci permette, ecco, di fruire dell'esterno in maniera gradiva. Un'ultima battuta sul progetto che state, progetti che state facendo sugli esterni e sull'outdoor, quanto state spingendo per uscire, hai detto prima, customizzazione, prodotti, quanto state spingendo per uscire anche oltre quelle che sono le proposte dell'azienda e quanto spingete l'azienda a fornire delle nuove risposte? In assoluto l'utilizzo di strutture flessibili come i spazi, le pergotende e quanto di i vari sistemi di tendaggi ci consentono di avere a nostra disposizione l'emozionale della natura, lo facciamo entrare nel progetto, può essere protagonista del progetto in modo molto più semplice rispetto a un interno e questo grazie a questi ambienti, questi spazi nuovi che noi riusciamo a conquistare grazie a queste strutture. è quasi un nuovo modo di affrontare lo spazio esterno, rispetto ai nostri antenati abbiamo più strumenti e questo grazie alle aziende che spingono in questa direzione la loro ricerca. Strumenti, codici, anche velocità e capacità di creare dei nuovi volumi? Assolutamente, infatti riallacciandomi a quello che diceva mio collega Marco, è conquistare lo spazio esterno, quindi è la conquista di uno spazio esterno che è importantissima poi attraverso tutti i vari codici e tutti i vari format che noi pensiamo, l'azienda risponde alle nostre esigenze e poi alla fine a quelle del cliente. Grazie a tutti!